Fare rete, questa è la parola d'ordine del distretto rurale del Sasserese del Golfo della Sinara che coinvolge oltre Sassari anche altri quattro comuni, Stintino, Porto Torres, Sorso e Sennori. Il progetto presentato questa mattina a Tutubella sarà una grande opportunità per il settore agricolo e agroalimentare di tutto il nord Sardegna. Tante le azioni che metterai in campo basate sulla concertazione tra le varie aziende. Ma credo che la cosa importantissima sia quello di fare un coordinamento a livello regionale perché si cresce come sistema a Sardegna pur nelle specificità dei vari territori. Abbiamo grosse opportunità di fare sistema, di crescere contemporaneamente con le varie eccellenze dell'agroalimentare e sono convinto che questa sia una grossa opportunità. Sta alle persone che lavorandoci dentro non sovrappongano le caratteristiche dei distretti con quelle del GAL ma possano camminare assieme e far crescere le aziende perché poi questo è il vero obiettivo dei vari distretti rurali. Quest'unione che vede tra i soci fondatori il distretto regionale Bio e l'ITS filiera agroalimentare della Sardegna punta a sostenere le produzioni e le aziende del territorio. La prima volta che un distretto entra a costituire un altro distretto quindi è l'apoteosi della rete è il principio secondo il quale sono nati questi distretti e oggi ne contiamo 19 in tutta l'isola e puntiamo appunto ad essere più forti dal punto di vista sia di rappresentanza territoriale ma soprattutto per andare poi ad avere, insomma a poter attingere risorse più ingenti sia da Mamma Europa che dal Ministero e dalla Regione.